Ben ritrovati, eccoci qui. Inter riparte la corsa alla stella, alla seconda chiaramente, ma che delusione la Champions League. Tom, come va? Sei ripreso? No, io sto benissimo, sto benissimo. Subito sulla difensiva? Sì, sì, vincerò il mio campionato, quindi sono tranquillo. Brucia, sai, uscire dalla Champions brucia. Però quello che vado ad analizzare, i tre anni di Nzaghi all'Inter, io sono stato il primo a canticarlo. Il primo, dopo l'anno scorso, poi di cotte e di crude. Però quest'anno devo dire che sugli errori fatti l'anno scorso ho visto dei miglioramenti. Ho visto che si è andato ad aggiustare in certe situazioni, soprattutto anche nei cambi e in certe situazioni. Quindi, è una partita sbagliata, secondo me l'ha persa lui questa partita, l'ha persa lui. Perché era migliorato nei cambi? Eh? Scusami, Tom. In questa partita ho fatto dei cambi sbagliati, in questa partita. Ti dico, ti giuro, mentre guardavo la partita. Però ho fatto 15 vittorie di fila, capisci? Parlo di campionato. Io ti sto parlando. Però sono due cose scindiamo. Ok. C'è il campionato e c'è il Champions League. In Europa ha sbagliato. Tu hai giocato un ritorno di Champions League con l'Atletico Madrid, con un 1-0 dell'andata. Perfetto. Con un campionato in cascina. Ok. Quindi vogliamo dire che ha messo i giocatori col Bologna, quindi non ha fatto rifiattare. Lautaro è stato fuori. Lautaro è stato fuori. Torre è stato fuori. Di Marco Lautaro e Pavard. E Pavard è stato uno dei peggiori. Esatto. Quindi non c'è la controprova. Esatto. Questa è una teoria che ha sostenuto Borrelli subito alla partita. Era giusto. Sì, ma sono luoghi comuni. Ti ho detto, non c'è la controprova, no? Perché tu li lasci fuori tutti e magari puoi fargli venire un calo di tensione. Pavard, ti dico, è stato il peggiorio. Allora, alla fine, voglio dire, è una partita andata così. L'hai sbagliata? Hai pagato. Sei andato fuori. Hai perso i rigori, potevi perdere prima, potevi andare in vantaggio e vincerla. Questi sono le atti di fatti, perché dopo noi parliamo sul risultato. Grazie. Sei andato in vantaggio. Sì, ma abbiamo preso il gol. Dopo due minuti. Esatto. Poi Turam può chiudere la pratica e al novantesimo, addirittura, al novantaquattresimo, rischi di andare fuori senza fare i suoi messaggi. Sì, sì, va bene. L'ho preso anche un palo da te. L'ho preso un palo. Solo una a uno. E quell'altro ha sbagliato un gol. Sì, ma sono d'accordo, Paolo. Ma sono d'accordo. Depay, Palo. Partita sbagliata. E se non sbaglio, chi è che... Riquelme sul finale. Tira alto, clamorosamente. Ma no, secondo me il concetto è che a livello fisico, di condizione, l'Inter secondo me ha pagato. L'atletico stava meglio. Quando ha fatto i cambi, Correa e Depay ci andavano al doppio degli altri. Sulle seconde palle arrivava sempre l'atletico. Correa e Depay hanno fatto svoltare la partita in quel momento. Qualcuno mi chiedeva ieri se la stagione dell'Inter con la vittoria dello Scudetto è fallimentare. Io ripeto, di no, come non lo era. Come per gli amici interisti invece pensavano che le stagioni della Juve, quando vinceva lo Scudetto e fuori dal confine, non vinceva niente, invece lo fossero. E' una cavolata allucinante quando vince, quindi gli interisti dovrebbero imparare al fatto che oggi sono molto simili alla Juve, sia per episodi che per il redominio. Dall'episodi, quello che è successo quest'anno all'Inter, direi che non ha metri di paragone. In Champions, se escono, se arrivano in finale, la perdono, stanno diventando la nuova signora. Ok, invece una è la vecchia, l'altra è la nuova. Posso se la metti tu quest'anno alla seconda stella? No, no, ma nessun problema. Magari la metti tu alla seconda stella? No, no. In altre situazioni parlo. Beh, c'è anche un scudetto di cartone alle spalle che ha aiutato a scavalcare in quella classifica. Detto questo, però parlando di calcio invece che di discorsi da bar, a me è stupito che l'Inter, per quanto non giochi mai da solo, che avesse fatto così fatica a Madrid non l'avrei mai preventivato, per quanto l'Atletico è una squadra ostica, secondo me ha fatto una buonissima partita d'andata all'Inter, oggettivamente è uscita meritatamente. Mi si è venuto in mente proprio tu, Thomas, nel momento in cui lui a un quarto d'ora dalla fine fa i cambi e si inventa per la prima volta, sposta in un assetto più difensivo la squadra, con gli esterni che di solito fanno i braccetti e tutto, per una volta cambia non il modulo ma l'assetto. L'atteggiamento, che ci può stare in un'ottica di allenatore, diceva vabbè porto a casa l'ultimi dieci minuti, sto lì a tanto questi mi stanno in tasso, invece ha pagato, ha pagato tanto perché è stato un momento in cui l'Inter ha sbagliato, ha proprio criticato perché non cambia mai, perché Thomas fra questi ero i primi a dire non cambia mai assetto un po' come ha fatto la critica prima d'Allegri, quindi da questo punto di vista è coerente. Una volta che è andato a cambiare non il modulo ma gli interpreti, ma proprio inventandosi delle cose. Ma già dall'inizio quando parte con Dumfries e non con Darmiano c'è la sorpresa. Sì, 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 ecco, ti dico, quindi nel momento in cui va a inventare per una prima volta qualcosa, paga d'azio pesantemente perché poi l'Inter da quel momento lì subisce una marea, marea no, però tante occasioni. Ho almeno due o tre occasioni, oltre il gol, quindi perde un assalto e un gol. Anche Barella si è mangiato un gol davanti alla polpa, che è arrivato in ritardo. Però là ti posso dire, noi siamo comodi sulla sedia, Barella arriva in corsa, stanco, certo. All'ottantesimo fa quella corsa, arriva là a un certo punto. Ma chi ci riesce per crampi, eh, subito dopo. Io dico più Turam. Quello di Turam, quello di Turam veramente, non devi solo piazzarla, devi giocare con la polpa. Ma la partita è una scena quella di Turam. Una prestazione quella di Turam è molto forte. Prima della settimana scorsa non mi aspettavo un calo fisico così evidente in quella partita perché dicevo, mi ricorda il Milan di Capello che ha fatto dieci vittorie, all'epoca si giocavano meno partite in Champions, di fila, è arrivato con l'Olympique Marsiglia alla canna del gas e ha perso. Pur giocando meglio. Pur giocando meglio perché l'altro giorno li vedevo anche gli highlights. No, no, ma giocava bene. C'era un Van Basten a mezzo servizio. C'era un Van Basten fuori servizio, c'era anche la polemica Lentini che rientrava in squadra, aveva fatto bene, però era andato a fare una sorta di turnover per arrivare a fine, perché il campionato era vinto in carrozza. Io avevo prospettato, questo per aneddoti storici, che l'Inter facesse fatica fisica ma più avanti. Io mi aspettavo sinceramente che passasse. Se vado a vedere, la prima volta che in Zaghi si inventa qualcosa a livello di sostituzione, cambia, interpreti, paga pesantemente dazzi. Sui rigori invece si è riso e scherzato molto, ma io credo, ditemi voi se sbaglio, che siano davvero l'ultima cosa alla quale fa riferimento, oppure no? No, beh, io non sono d'accordo con chi utilizza il luogo comune che è una lotteria. Anche io, Paolo, concordo. Perché i rigori è un gesto tecnico, vanno allenati. Però si è scoperto, leggendo e analizzando, che l'Inter praticamente non ha a rigoristi squadra. Perché, per esempio, Sanchez ha una media su quelli tirati. 50% segnati e quanta sbagliati. L'avataro, lo sappiamo. Certo. Aveva segnato a Cerbi, che aveva tirato l'ultimo rigore cinque anni prima, no? Nel 2019, Coppa Italia. Coppa Italia, sì. Con la Lazio, lui, eccetera. Quindi l'Inter si è trovata senza rigoristi. In verità, Classen è quello che l'ha tirato meno peggio di Sanchez. Ha fatto una parata. Quindi, poverino, lasciamo stare Classen. Anche perché il tanto vituperato Classen, ha segnato anche al Bernabeu, Corral Madrid giocava nell'Ajax. Non è l'ultimo dei Pio. Ma poi quest'anno nell'Inter non si è giocato. È un giocatore messo nello sgabuzzino. Ma non c'entra. Il secondo rigorista dopo ce l'hanno, è Lautaro che ne sbaglia ogni giorno. Ma il vero problema. Ma spesso è una ftalina, quello è il piede. Sì, ma infatti non c'è da povero Classen. Quello che l'ha tirato meno peggio. C'è un calcio nello peggio, però non ha segnato. Però Oblak fa una grande parata. E allora, dagli, e allora, scusami, massacriamo Classen e facciamo finta che Sanchez e Lautaro non hanno tirato da schifo. Non c'entra un altro, che secondo me, forse anche lì, di poca lucidità nell'allenatore, probabilmente lo fai tirare e ha un interprete. Ma chi? Ma chi? Stanno dicendo che non ha rigori. L'Italia era uscito. Chi lo tirava a Sombra. Mkhitaryan, chi era a bordo campo, ha detto che non camminava più. Esatto. Cioè, non ce la faceva più. Di Marco era uscito. Di Marco il tiro ce l'ha. Magari potrebbero ragionare. Ragionare anche su dettagli. Poi l'altro aspetto... Perché in Champions League puoi anche arrivare a 120 più rigori. L'altro aspetto è che loro hanno un gran portiere. Esatto. Il signor Oblak è meraviglioso. Anche Sommere, Sommere ha pareligori, è bravo. Però qualcuno l'ha calciati meglio di quante l'aveva facciato uno. Perché comunque Sommere ci ha fatto uscire dal mondiale. Però la storia del campo è piena di grandi giocatori. Penso a Detto, e penso a Dzeko. Baggio e Baresi. No, non che le hanno sbagliate i rigori importanti, quello tutti. Però giocatori forti che però non hanno una grande confidenza con il penalty. Anche Osimeno ci sta. Osimeno. Osimeno ha questa grande confidenza con il calcio di rigore. Ne possiamo veramente citare tanti. È davvero una cosa diversa il calcio di rigore. È un gesto tecnico che va ripetuto tipo il tiro libero del basket. Però tutti direbbero è vero, io lo posso ripetere nel lamento 1400 volte ma poi in partita il contone della partita... E poi che sai gestire la componente emotiva. nel senso che... Perché alla fine quando prendi il fallo tecnico anche nel... Sembro allegri che fai gli esempi col basket. Quando prendi il fallo tecnico in lunetta ci va il miglior tiratore. Perché ha una componente tecnica e mentale che va in gestione. Ma Shaquille O'Neill ve lo ricordate? Perché lui tirava una mano. Tu dici come fa a non fare un tiro libero? Anche Maradona ha sbagliato dei rigori. Sì però... Non tantissimi. Una maggiore freddenza nel senso che non esiste la formula matematica per cui... No però ci sono dei giocatori il Lautaro di turnico un giocatore fantastico lo diciamo sempre quando va al dischetto si spegne. Certo poi ci sono i rigoristi poi puoi metterla dentro o meno ma c'è il rigorista. Certo. Per come lo descriveva Marco cioè freddo capace di tirare in quel posto che non si fa sormontare dall'emozione. Certo succede anche che poi quando continui a tirarle gli sbagli poi quando vai sul dischetto magari nelle partite decisive lì proprio ti cala il gelo. Sì sì la porta la vedi grossa al centimetro la vedi grossissima. Vediamo i quarti di finale di Champions League facciamoci un'idea la notizia positiva è che vedremo due volte Real Madrid e il Manchester City scontrarsi. Certo. La negativa è che forse sarebbe stato bello vederli in finale da appassionati di calcio credo sia la massima espressione del football in questo periodo. Mi pare un po' il tabellone dell'anno scorso a sinistra le meno forti e a destra invece vedo il Bayern Monaco Real Madrid e il City. Voi cosa dite chi è la favorita secondo voi? Ma lo stesso Arsenal comunque è un club che si sta giocando la premia. Voglio la finale. Prego. Finale. Allora la semifinale secondo me è PSG. Vai a sinistra prima Marco. Sì la semifinale ti dico è Madrid PSG allora PSG è grande crescita. No sopra devi guardare non è di lato. No sì sì no 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 Madrid atletico intendeva. Ah ok Madrid atletico scuse. Chiaramente ragazzi lo sappiamo si gioca tra un mese bla 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 giochiamo adesso. Paris Saint Germain la semifinale e lì sono in dubbio su chi passa perché comunque il Paris è in grande ripresa distaccato in campionato sta giocando sta ritrovando una quadra dall'altra secondo me il Bayern è a olio secco quindi Arsenal Arsenal semifinal no no non finalista la finalista potrebbe essere mi sbilancio derby di Madrid la finale io ti do già anche la finale l'ennesimo derby di Madrid dica dica City Paris Saint Germain anch'io voto City Paris Saint Germain anche se tifo Real Madrid per Carletto Paolo Thomas Paris Saint Germain che passa sul Barcellona Dortmund veramente difficile però credo passi il City sul doppio confronto forse il City ha qualcosa di più se gioca come sa giocare secondo me non ci sono per quanto io stiamo parlando del migliore allenatore al mondo c'è più di Carlo Ancelotti Guardiola Pepe Guardiola per me e tifo Pepe Guardiola perché prima dicevamo di quanto incidesse di quanto l'allenatore possa incidere ecco no di quanto l'allenatore possa incidere ma anche di quanto la Champions sia in realtà legata molto agli episodi comunque l'Inter non ha un singolo momento se andiamo a vedere nella storia il City è stato eliminato per dei torti arbitrali qualche squadra ha vinto che se ci fosse stato il VAR non avrebbe mai vinto le coppie dei campioni quindi ci stiamo parlando veramente di momenti anche come arrivi in condizioni in condizioni il City quest'anno è una squadra diversa non ha un vero e proprio regista avendo perso Hundogan era cambiato modo di giocare quindi diciamo è sempre in evoluzione il calcio di Guardiola migliora se stesso non è detto però che poi questo miglioramento porti sempre ai risultati perché è scientificamente impossibile quindi ti dico il Madrid è quadrato ha un'identità di gioco si recupera qualche infortunato discretamente a casa sua sui prati della Champions League una discreta confidenza l'ultima partita il Real pur passando è stato fischiato dai suoi tifosi che sono pretenziosissimi ricordiamo vuoi concludere Marco Tom invece rivediamo il tabellone la tua finale PSV in Doven PSV in Doven PSG Bayer Monaco il Bayer Monaco dici che ti spiego perché ti spiego perché il Bayer passa con l'Arsenal e il Manchester City passerà con il Real Madrid ma si farà si farà eliminare dal Bayer Monaco quella rivincita dopo quei sei gol che gli aveva dato ti ricordi? no quell'eliminazione particolare il Bayer Monaco prese sei gol dal Manchester City mi sembra di sì 4-5 gol c'era Sommer in porta mi ricordo che c'è Bayer Monaco quest'anno aveva tanti tanti problemi City-Bayer Monaco sì City-Bayer Monaco c'era Sommer in porta il Bayer quest'anno ha tanti problemi e secondo me ci sarà la rivincita e vincerà il Bayer Monaco controllo io guarda a livello a livello tecnico e a livello di Rosa secondo me il Bayer di Monaco se non era più forte in Europa siamo lì però quest'anno tanti problemi è vero tu che è già stato accantonato in campionato a 10 punti dal ma questo non vuol dire niente del campionato anche l'Inter l'anno scorso ha fatto 12 scopi non ce l'ho Tom c'ho un 3-0 ai quarti di finale dell'anno scorso ad aprile City-Bayer Monaco 3-0 per dire che non è una corazzata in questo momento magari ritrova lo smalto e la vena 3-0 allora lo sta ritrovando perché ti leggo gli ultimi risultati del Bayer Monaco cito 3-0 alla Lazio 8-1 al Mainz oggi ha vinto ad Armstead 5-2 quindi ha fatto 11-16 gol nelle ultime tre partite tra un mese quindi te la rivedi certo però 16 gol in tre partite insomma sono squadre che fanno più fatica però ha disputato prestazioni in campionato e secondo me anche in Champions la partita con la Lazio a Roma dove si è creato quello era il periodo nero secondo me il Bayern tecnicamente è una delle migliori però quest'anno qualcosa non gira e poi magari la vince però ad oggi qualche problema a oggi si a rientro invece parliamo un po' di Europa League perché ci sono stati i sorteggi ai noi come italiane non bene l'Atalanta trova la grande favorita dell'Europa League Milano e Roma invece si dovranno scontrare rientriamo tra due minuti il capitolo Inter è molto molto delicato cioè un Inter che forse a detta di tutti forse sbagliando e accentuando delle qualità che si c'erano ma non rendevano l'Inter invincibile si è vista nella sua fragilità a livello internazionale le tante occasioni perché viene da lontano le tante occasioni sprecate nella gara di andata che poi si sono ritrovate nella paura di giocare dopo il pareggio dell'Atletico Madrid che è arrivato subito dopo il vantaggio di Di Marco è caduta dalle stelle più tu in alto vai più la caduta è fragorosa improvvisamente servono gli attaccanti improvvisamente è una squadra che non ha la mentalità europea improvvisamente forse troppo ingiustamente sono piovute anche addosso tante critiche qualcuno è giusto e sacrosante perché ha peccato un po' di presunzione magari quest'Inter non lo so però tante troppe da gestire con un impegno in campionato contro il Napoli diventa tosta la situazione eh caro Fierro non vorrei essere in Inzaghi no no per quanto riguarda il campionato non credo che sia tosta puoi anche fallire anche contro il Napoli magari puoi perdere la partita ci sta se è andato ai rigori ma credo che non sarà così perché nonostante tutto l'Inter abbia sbagliato la partita però io vedo un Inter forte sempre questo come la vedo io io confronto gli altri anni io vedendo questa Inter qua mi piace di più di quella dell'anno scorso eppure l'anno scorso è arrivata in finale ha sbagliato delle cose perché alla fine poi stiamo sempre a parlare se avesse segnato quello se avesse segnato quello poi stiamo a parlare qui a parlare di un'altra cosa no? e poteva andare fuori anche prima dei supplementari perché se fa il 3 a 1 lì non andiamo neanche sui supplementari finisce il 97 esatto Turam si mangia quel gol Barella si trova davanti al portiere la cicca insomma è stata una partita secondo me sbagliata per quanto riguarda i cambi a un certo punto mi sono visto Pavard come quinto e Darmian come quinto dall'altra parte non ho capito per quale motivo è entrato Klassen con Aslan in panchina e non capisco perché Buchanan che secondo me in un momento di supplementari che è uno che ha gamba e salta l'uomo secondo me andava inserito questo è il mio parere come vedo io la squadra purtroppo qualche cambio l'ha sbagliato ma non sono qua a criticarlo di certo dopo che ho fatto 15 vittorie consecutive per l'amor di Dio però fa male fa male uscire perché avevamo anche i sorteggi poteva essere gestita però ragazzi io fra un mese sono tranquillo parlo da interista da tifoso ti godi la seconda non ha reso amare la seconda stessa magari qualcosa vincerò andando avanti fra un mesetto sarò più contento e festeggerò magari l'eliminazione per come è avvenuta dispiace ma non inficia né il giudizio sulla squadra né sull'allenatore né tantomeno sulla società l'obiettivo dell'Inter quest'anno qual era? vincere la seconda perfetto poi tutto il resto come ha detto anche Marotta è una cosa in più non è detto che siamo contenti perché siamo andati fuori peccato abbiamo giocato una partita che secondo me se la mettavamo sul piano perché l'Atletico veniva da un 2-0 che ho visto la partita contro il Cadice col Cadice vergognosa proprio ha fatto due tiri in porta e quindi forse l'hanno sottovalutato magari hanno sottovalutato la situazione va in vantaggio va in vantaggio e subito dopo prendi quel gol lì che ti taglia le gambe e da lì poi anche lo stadio e tutto quanto io ti avevo promesso di rimanere con te ma devo dire mi dispiace Gian Bruno ma vi dovete lasciare per questo frangente di trasmissione prima però passo da Serafini poi devo sentire Leonetti e Elena sul discorso Inter magari in questo frangente la battita si chiude ecco esatto Luca tu cosa ne pensi? guarda è molto complicato capire il confine fra un eccesso di umiltà e un eccesso di presunzione perché in realtà al dettaglio noi parliamo sempre dell'eliminazione dell'Inter perché c'erano delle aspettative molto alte ma non parliamo della prestazione dell'Atletico Madrid che era in attesa che era probabilmente in attesa tanto più per cosa di male l'Atletico sta facendo dall'inizio dell'anno in campionato nella Liga il fenomeno delle coppe è sovente così quest'anno c'è per esempio il West Ham che ha vinto la coppa l'anno scorso che è in campionato in un momento difficile e in coppa va come un treno quasi sempre poi c'è il ci sono tanti casi non è mai il caso di festeggiare di dare per scontate alcune cose quando ci sono i sorteggi il clima intorno all'Inter era un po' troppo euforico c'erano tutti gli attori i cavarettisti i giornalisti i tifosi per un quarto uno tavolo di finale e il clima un po' ne risente però al dettaglio nella partita io non ho visto l'Inter che ha sbagliato la partita ho visto l'Inter che l'ha giocata intelligentemente gestendo un vantaggio là certo che ha raddoppiato poi è diventata ancora più bruciante perché stavi vincendo 2 a 0 praticamente a un certo punto l'Astetico ha trovato uno più vero dell'altro ma l'Inter ha avuto le sue occasioni l'Astetico ha avuto le sue e alla fine va fuori i rigori qualche cosa ha sbagliato io non so se i cambi mica i cambi eccetera perché poi anche nei supplementari ti sono state un paio di occasioni rispetto alle attese dopo la finale di Champions l'anno scorso è coccente ma la stagione con lo scudetto sarà più che in cassaforte inventeranno l'Unete dopo il triplete perché c'è solo è rimasto solo scudetto quindi vincerà l'Unete però è pur sempre l'Unete è un tricolore ben ritrovati Elena diamo un doppio voto alla stagione dell'Inter dai che mi piace questo gioco introdotto da Leonetti poi ritorniamo anche al suo doppio voto tu che voto daresti? allora nove in campionato perché comunque gioca bene si vede che è una squadra unita e che ha una dirigenza che è riuscita a crearla e plasmarla in questi due anni si è vista proprio l'evoluzione dall'Inter che ha perso lo scudetto con la perdita della partita a Bologna due anni fa fino a quest'anno e con un allenatore che è cresciuto tantissimo perché ha imparato dai suoi errori quindi almeno un nove all'Inter glielo devo dare sinceramente in campionato in Champions League ha dovuto affrontare comunque una grande squadra perché l'Atletico Madrid è una squadra forte e quindi secondo me esce a testa alta dalla Champions League l'Inter gli darei un 7 sicuramente quindi nove in campionato e sette in Champions perché si è trovato di fronte un Atletico Madrid come ricordava anche Serafini noi spesso e sbagliandoci siamo dimenticati che insomma a quel livello non c'è una squadra a materasso e sicuramente non lo sarebbe stato l'Atletico Madrid e ha dimostrato che quella partita credo che fosse la meglio giocata degli ultimi anni un Griezmann un Depay cioè io ho visto Depo ho visto veramente dei giocatori che hanno fatto delle prestazioni ma sinceramente sì però non questa grandissima partita che sto sentendo dire dagli Inter perché per me la persa l'Inter secondo me l'Atletico ha concesso parecchie occasioni all'Inter però poi nel momento topico della gara ragazzi l'Atletico ha fatto dei cambi ma i cambi che ha fatto l'Atletico ha messo dei giocatori di livello ha messo dei giocatori di livello veramente internazionale e lì c'è stata la svolta assolutamente grande gol però fammi dare il voto perché ho inaugurato questa biforcazione sul campionato sono d'accordo con Elena cioè io credo che 9 sia il voto da dare visti i numeri e tutto quanto poi sarà sicuramente un 9 e mezzo qualcosa in più quando l'Inter si cucirà al petto il tricolore mi costa dirlo ma è quel fattore dei 102 punti che si è superati può scattare il 10 sì beh poi vedremo quali saranno i numeri no però sarà un voto altissimo nella Champions secondo me se non è 5 e mezzo può essere 6 e meno o meno comunque un voto risicato perché l'Inter gli puoi dare anche 5 ragazzi è uscita agli ottavi di finale col favore dei pronostici con una gara di andata l'Inter nel girone arriva seconda l'Inter nel girone con questo popò di squadra che macina numeri incredibili arriva seconda quindi è una Champions non così brillante come probabilmente anche i tifosi nerazzurri si aspettavano sono d'accordo con te poi io capisco allora a me è sempre suonato strano il concetto che l'Inter ormai fosse la specialista della Champions vincere la Champions cioè si chiedeva a quest'Inter visto che è così bella la passeggiata di salute anche in Champions se sei arrivata in finale l'anno scorso ci arrivi tranquilla come se fossero tutte pratiche quasi già pronte già fatte già archiviate il problema è che ci ha creduto lì cioè era un discorso sbagliatissimo perché in Champions contano le variabili contano i dettagli contano la fortuna la fortuna però tremi no nel senso che la Champions è così se sbagli una partita quindi non dava che l'Inter battesse l'Atletico Madrid ecco questo mi fa andare verso Elena certo è che anche il 5 anche il 5 ha una sua motivazione Gian Bruno no però mi chiedo visto che abbiamo idolatrato e abbandonde anche perché si merita 9, 9 e mezzo in campionato Enzaghi ha fatto qualcosa di incredibile mi chiedo se non sia il caso relativamente al voto anche di abbassarlo Enzaghi perché io ho visto una squadra cotta cotta? cotta dal punto di vista fisico a Madrid e mi chiedo aspetta scusa finisco e poi ti faccio rispondere mi chiedo un po' di equilibrio cioè una settimana fa era un rullo compressore adesso è cotta quella che ho visto a Bologna io non ce l'ho la palla di vetro non ce l'ho una settimana fa non l'avevo vista la partita di Madrid quindi come facevo a dare il giudizio ma avevi visto quella di Bologna ti sembra una squadra cotta? no assolutamente no però la squadra mentalmente fisicamente secondo me è arrivata molto carica e anche un po' stanca e forse mi chiedo se non era il caso di gestire un po' meglio turnover a Bologna no non soltanto a Bologna anche settimane prima cioè pian piano arrivare perché già sapevi che avresti affrontato la 3 di con Madrid e gestirla così per non avere quei 16 punti di vantaggio magari ne avevi qualcuno in meno però la possibilità di giocartela veramente ad armi pari la 3 di con Madrid non dal punto di vista qualitativo assolutamente no ma l'ho visto più carico sì fisicamente fisicamente nel momento topico del match poi Luca penso di non peccare di equilibrio quando parlo di Inter perché sinceramente non sono chiamato in campo ma questo è vero che hanno sottovalutato un po' la Champions nelle scelte sette giorni fa di Nzaghi a livello di Guardiola di Sacchi di Ancelotti di Capello e adesso è colpa sua dei cambi oppure di una squadra semi-invincibile che gioca il calcio più bello del pianeta secondo me ci sono delle vie di mezzo è una squadra che gioca perfettamente bene ha avuto se ha avuto una delle grandi forze di quest'anno è stata sicuramente l'integrità e la condizione dei titolari perché non ha mai dovuto giocare un mese per esempio senza Lautaro e Turam o un mese senza due centrippisti però è un merito anche questo perché se rompono di meno evidentemente la metodologia funziona il turnover è storia se lo fai è perché lo fai se non lo fai è perché non lo fai e non c'è mai una controprova però oddio cioè viste le partite col Genoa col Bologna e con l'Atletico a Madrid parlare dell'Inter cotta onestamente no che si è interpretato male non ha sufficientemente la partita di Madrid tu ti devi aspettare che arrivando da un 1 a 0 laggiù soffri perché questi sono così non c'è niente è la storia che dice che sono così ti aggrediscono per me tecnicamente rimane come dice anche la classifica della riga molto sotto all'Inter ma le partite di Coppa le differenze le fanno altre cose neanche nei cambi ho visto delle colpe particolari senza fare Poncio Pilato per Simone Inzaghi perché le decidono non la fortuna gli episodi perché la fortuna non ha riso neanche l'Atletico al 96 quando ha sbagliato e quella non è sfortuna sei tu che ti sei mangiato un gol ecco magari non cotta però che abbia peccato di tanta lucidità e questa cosa non ci arrivi benissimo probabilmente sì per me il problema qual è che una partita così hai vinto 1 a 0 li aspetti rischi qualcosa alla prima azione fai gol può darsi che si trasformi quasi in una specie di boomerang perché pensi che l'Inter non mi ha dato la sensazione che pensasse di aver archiviato la pratica perché la partita l'ha giocata fino alla fine però noi vedo che continuiamo a sottovalutare un po' quello che ha fatto l'Atletico che è andato molto oltre le sue possibilità e questo un po' sicuramente l'Inter l'ha sorpresa ti faccio una domanda se l'Inter allora non è che è l'Inter che non si aspettava un Atletico così e allora da qui le critiche a un allenatore che forse è proprio questo il compito preparare la squadra ha una volgia del genere ha una guerra calcistica del genere la partita non è stata sbagliata mentalmente ma mentalmente il giocatore la vive in campo cioè tu come vuoi prepararla se sei Simone Ingiaghi no io alla fine del primo tempo non puoi che farla ma sì ma lo conosci Simeone conosci l'Atletico la condizione dell'Inter ma è quando comincia la partita anche perché in tutta onestà l'Atletico arrivava da una partita a Cadice improponibile è in caduta libera nella Liga a grandi difficoltà le ha avute anche nel Girone quindi onestamente cioè fai la partita che devi fare se non succede un cataclisma la porti a casa però sai cosa ho notato Luca che anche nei momenti in cui Zumba io non vedevo adesso passatemi questo termine l'occhio cattivo l'occhio della Tigre vedevo un'Inter molto leggiadra molto bandanuziosa sicuramente ben efficace di altre volte i giocatori non li vedevo con quella transagonistica quella satanata quella voglia satanata negli occhi li ho visti un po' un po' sbagati perché Turam fino ad oggi ha fatto bene è mandato proprio il killer instinto incertamente e lì magari dice l'allenatore che glielo dovrebbe dare questo dicono quelli che ci vedono qualcosa di negativo in questa eliminazione Elena dimmi io vorrei dire che la partita comunque è finita ai rigori quindi se i rigoristi dell'Inter avessero segnato probabilmente saremo qua a dire che l'Inter è passata ai quarti di finale con merito e ha gli anni di voti più alti quindi proprio ieri sentivo Padovano in trasmissione che diceva ricordava la finale del 96 dove ha detto noi siamo andati a tirare rigori carichissimi e convinti di vincere e infatti la Juventus ha vinto la Coppione all'epoca cosa che nel 2003 contro il Milan forse era il direttore Moggi che l'ha raccontato una volta in trasmissione ha detto che non riuscivo a trovare cinque calciatori che volessero tirare i rigori e mi si è offerto Montero che è un difensore e poi poverino pure sbagliato quindi secondo me i rigori sono veramente un terno all'otto dove vince chi ha ancora energie psicologiche più che fisiche per poter raggiungere l'obiettivo il fatto è che ci sono due aspetti cioè fosse andata ai rigori l'Inter avesse passato il turno comunque essendo stata la prima sconfitta dell'anno avendo rischiato un po' di critiche l'avrebbe presa ma ovviamente con toni e pesi completamente differenti ma la colpa originale è proprio quella di averla portata ai rigori la partita perché tu l'hai avuta in mano l'hai avuta in mano a San Siro l'hai avuta in mano per un tempo a Madrid sei andato avanti anche a Madrid hai preso il gol subito male anche molto male come assetto difensivo e sei arrivato ai rigori e lì ai rigori può passare anche il non possiamo dire Luca che i cambi fatti dall'Atletico rispetto a quelli dell'Inter hanno avuto una brillantezza diversa cioè la marcia in più io ripeto secondo me nel momento topico del match gli spagnoli sono stati più bravi sono stati più tonici perché si andava verso la fine della partita una partita tirata fisica con delle occasioni quindi sono stati bravi lì a concretizzare guarda che il secondo tempo supplementare dell'Inter non ha superato la metà campo l'Atletico assolutamente sì ha giocato solo l'Inter l'ultimo quarto d'ora secondo tempo è vero quindi però nel momento in cui non parlerei di stanchezza di affaticamento nel momento in cui tu potevi chiudere la partita parliamo del palo di Depay il gol di Depay poi l'occasione clamorosa al 97esimo dell'Atletico è vero però prima di quelle azioni lì Lautaro gli dà una palla un cioccolatino a Turam che spara in curva lo premesso lo premesso la gioca la gioca sull'angolino il portiere la guarda e arrivederci e grazie poi detto che quest'anno è particolarmente difficile andare a trovare un difetto alla stadione dell'Inter infatti mi hanno detto prima teleconti esatto sulle dita di una mano l'eliminazione in Coppa Italia con Bologna in quella sera di gennaio di dicembre e anche quelle i supplementari sbaglia il rigore Lautaro 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 che sbaglia il rigore anche se c'è un mini caso con un'immagine che è uscita da un emittente spagnola del pallone che sembra su queste cose io poi alzo le mani ma lo scontò ragazzi io sinceramente su queste cose qui ci manca solo l'allineamento dei satelliti e delle asteroide se no se no 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 anche Lautaro si è lamentato del fatto che non c'era una situazione che ci fosse un'attività della Zollo alla Villena Lorenzi con il limone l'autaro calce e rigore è la prima situazione che ha di incontro comunque di reazione che va a guardare subito il dischetto che potrebbe essere una reazione anche ti verrebbe dalla vergogna di averla buttata in cielo però effettivamente sono uscite delle immagini in cui il pallone si muove in maniera impercettibile una frazione di secondo prima che Lautaro Calci ma anche Maspero quando scavò la buca nel derby lì c'era c'era un motivo lì c'era esatto tirò verso Saturno anche Billy Costa curta lì c'era ho intervistato ma io ho intervistato Maspero me l'aveva detto tranquillamente ha fatto una furbata ha scavato la buchetta Salas non se n'è accorto e il pallone è andato verso Nettuno devo parlare di Juve però dopo la pubblicità vi interrogo giuro su Lautaro Martínez perché merita un sondaggio questo Martínez che il procuratore ce l'ha tascabile perché lo segue ovunque e vuole questo adeguamento contrattuale gli interisti fino ad oggi dicevano ma sì faccia quel che faccia rimarrà l'Inter nel caso ci danno una vagonata di milioni e comunque vada noi vinciamo io vi chiedo vale ancora una vagonata di milioni un giocatore anche perché te li danno all'estero un giocatore che in Champions ha segnato un solo gol su azione nella fase a gironi contro la Real Sociedad e l'anno scorso in 13 presenze 13 perché siamo arrivati con l'Inter in finale tre soli gol e quindi non è nuovo a queste sparizioni l'Inter lo deve vendere subito pubblicità secondo me anche sotto costo ve lo diamo a voi ve lo diamo e ritrovati Elena sai che io a volte per ruolo faccio un po' la cattiva su Lautaro Martinez ecco secondo te se l'eliminazione della Champions non ha ridimensionato il giudizio sull'Inter nella sua totalità su alcuni suoi elementi mi riferisco soprattutto al capitano Turam magari a Turam è più concesso ciccare una partita del genere sul capitano ci sono dei giudizi che possono essere cambiati? allora sentendo i dati che hai detto tu prima sono rimasta abbastanza senza parole che abbia segnato così poco in Champions League però sicuramente è un giocatore fondamentale per l'Inter se l'Inter è arrivata l'anno scorso in finale di Champions e quest'anno agli ottavi di finale il suo contributo l'ha dato sicuramente quindi non non mi sento di essere transciante nei suoi confronti a livello di Champions League in campionato è sicuramente indiscutibile visto che è una macchina da gol e in merito a quello che tu chiedevi prima io lo venderei sinceramente se fossi un dirigente ma non perché sono scontenta di lui ma semplicemente perché voglio valorizzare un mio patrimonio che ho cresciuto e adesso secondo me è all'apice Lautaro se non lo vendo adesso negli anni prossimi prenderò sicuramente di meno di quello che possa valere quest'anno un po' il discorso che sinceramente avrei fatto l'anno scorso con De Laurenti con Osimè e Vara io li avrei venduti entrambi sinceramente perché era difficile che quest'anno potessero replicare un'annata come quella fenomenale dell'anno scorso poi probabilmente a Napoli c'erano i motivi per cui non venderli ma il campione va venduto quando è all'apice non quando è discesa beh ragazzi giustizio questa è la legge proprio economica oltre che sportiva è giusto quello che dice però bisogna anche capire la società ovviamente poi se si parla di soldi con una vendita del genere con magari 80-90 milioni puoi comprare altri giocatori e devi iniziare un ciclo di nuovo non so se mi spiego cioè tu adesso stai facendo una squadra per per un futuro con ragazzi giovani perché l'interno dei ragazzi giovani è fare un progetto ok tu vendendo queste pedine vendi Lautaro vendi quell'altro incominci poi dopo devi rincominciare da capo vendi Lautaro prendi un Turam della situazione certo però diventa sono punti di vista per quanto riguarda Lautaro è vero però devo dire che ogni partita anche quando non segna è sempre decisivo negli assist anche domani anche mercoledì ha fatto due assist uno per Turam e uno per Barella che ha messo due giocatori però l'assist è quando segna lo so ha fatto due passaggi però ho capito l'ha messi davanti alla porta sono importanti come diceva Elena lavora molto per la squadra è un giocatore che lavora molto per la squadra questo è vero però in Champions ha dimostrato secondo me allora come abbiamo visto un Inter non riuscivamo a trovare il punto debole è un po' questa partita un punto debole o un cattivo o un funzionamento della gestione dei cambi come avete detto voi invece che ammazzare il campionato a dicembre perché è lì che hai perso il primato nel girone e ti è costato secondo me questo giocarti è anche il ritorno in casa da altri tutto è nato da mettere al centro questi punti mi sembra Conte quando uscì da lei per i 102 punti per la rincorsa di stravincere il campionato anche Lautaro forse questa gente che con due anni di contratto continua a chiedere questi 10 milioni magari l'Inter farà come dice Elena pensa a una cessione un po' di più rispetto magari a livello economico è molto diversa da Roma Napoli e Torino dove i loro migliori giocatori li osanano li difendono li sostengono li proteggono li trattengono una volta c'era anche la stampa che era così mentre tutto sport sono giornali faziosi per le squadre o di Torino o quelle del sud la gazzetta dello sport che era il quotidiano sportivo di Milano era equamente critico spesso cioè sempre nei confronti di tutti e due adesso ha virato nettamente in una direzione in un'altra ma storicamente era un'altra cosa ora la discussione che si è aperta su Lautaro mi sembra quella legata alle A o Milan e Inter per la loro storia e la loro tradizione le loro ambizioni i migliori giocatori non li vendono non fanno questo genere di calcoli secondo vero Lautaro ha fatto ai mondiali la riserva di una riserva del Manchester City ha qualche gol in meno in Champions rispetto al campionato per carità ma si tratta del miglior giocatore dell'Inter e che secondo me ha i tratti del fenomeno quindi metterlo in discussione è no sai perché si divertivano a distinguere i giocatori in giocatori campioni e fuori classe lui è un fuori classe è una cosa soggettiva ognuno può imparlare se era più grande per te o Maradona vai avanti fino alle 5 la mattina però voglio dire Lautaro entra sicuramente nel nove top player così li definiamo in questa maniera l'altro discorso è quello societario l'Inter non è in grado di fare nessun progetto di nessun tipo deve fare la campagna acquisti con le risorse che arrivano da recessioni e questo casomai l'anello debole della catena che condiziona certe scelte e quindi se arrivano gli aerei che ti scaraventano i sacchi di dollari per prenderti per prenderti non puoi dire di no per prenderti non puoi dire di no questo è completamente un altro discorso però come valutazione assoluta io che ho Lautaro che sto per vincere lo scudetto che ho fatto la finale di Champions League Lautaro me lo tengo certo punto però a livello economico eh sì che ragione ha ragione Elena anche perché più lo togli non è che se tu vendi Lautaro poi che parliamo e poi si parla da cinque anni dell'attaccante del Milan che ha trovato miracolosamente Giroud come miracolosamente l'Inter aveva trovato Dzeko in una seconda giovinezza e per certi versi un po' miracolosamente anche Turam perché Turam ha 26 anni non è che però è esploso quest'anno non si poteva pensare che avesse però tu vendi Lautaro perché arrivano con 100 200 600 milioni e te lo vendono poi che facciamo e poi ti prendi e allora questo è l'altro motivo per cui se io sono un club che ha delle ambizioni e che vuole vincere delle cose intanto provo in tutti i modi allora devo dare gli soldi che vuole purtroppo 500 milioni in più al turco potrei dare 10 milioni però però hai detto anche una cosa giusta in queste condizioni non c'è una programmazione che possa valere di più di un interesse economico perché se tu vendi un giocatore perfetto 100 milioni poi devi comprare un altro giocatore quindi allora se invece tu mi dici no non prendo nessuno ma con una società e quei 100 milioni li metto via perché sistemo i miei debiti ma no non puoi fare poi guarda scusa una piccola parentesi per chiarezza l'inter non può non è che l'inter non vende i giocatori per ripianare i debiti i debiti sono una questione societaria che deve sistemare la società con le parole con le quali si riempiono la bocca il brand il marketing i biglietti bla 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 la campagna acquisti è la campagna acquisti a meno che non arrivi il diktak di dire vendete tutti perché bisogna vendere palacca e burattini è diverso ma in una gestione normale i soldi che entrano per Achimi tu li investi per Doomfries però Luca è vero perché l'inter non se gli è mai o quasi mai tenuti perché anche Turam è vero l'hai pagato zero ma comunque sei stata anche lungimirante nel bloccare la concorrenza dandogli un ingaggio che magari il Milan non avrebbe potuto sostenere e 10 milioni di commissione agli agenti però l'inter ci insegna che ogni anno vende un pezzo pregiato quindi io non mi stupirei se quest'anno toccasse al buon Lautaro per le motivazioni che dice anche Elena è al clou e tu non aspetti che venga un po' sì ma tu nella devi mettere cioè nella coreografia dello scudetto c'è non è fortuna perché però certamente c'è una una componente di cattualità perché se tu torni a luglio e hai perso Dzeko Brozovic e Skriniar e hai preso e Onana e hai preso Sammer hai preso Acerbi hai preso Turam e non lo sai e Pavard sì però a sostituire Dzeko hai preso Sánchez e quindi indiscutibilmente ti sei indebolito è vero indiscutibilmente poi però il campo ha detto un'altra cosa e non ti senti Turam non è stato preso perché dove giocava prima giocava esterno a sinistra hai perso di Lukaku l'ha messo come punta centrale a Zecchato sì ma io dico empiricamente cioè se tu oggi hai un certo tipo di squadra dove hai riesumato Darmian Acerbi Pavard Sammer Sánchez Arnautovic due cose le ha fatte il gol all'atletico l'ha fatto lui qualcosina Bissec non è male è perfettamente bene ma se noi stiamo discutendo di vendere Lautaro io non so però se tutti gli anni ti va bene la cosa curiosa è che non parliamo mai di Frattesi che all'interno del mercato italiano è stato definito il colpo e poi è questa la realtà ricordiamo benissimo come arriva Frattesi l'Inter brucia la concorrenza di tutti c'è un esborso importante e Frattesi oggi nell'Inter non è praticamente mai titolare mentre probabilmente sarebbe titolare in altre squadre probabilmente alla Juve farebbe titolare ecco io credo che se dovesse partire qualcuno all'Inter per me parte o Barella come diceva lui e Dumfries Barella? sì secondo me sì lo puoi vendere benissimo lo puoi vendere perché Frattesi Frattesi non ancora Barella non è ancora Barella ma Barella sostituisce Mkhitaryan Mkhitaryan ha cent'anni come dice Luca se vendi Lautaro segno di ridimensionamento Mkhitaryan è una certa età ma Barella è più campione di Lautaro poi Mkhitaryan ha un'età avanzata non è buio giovanissimo forse vi siete già dimenticati che arriva Zellisky ma Barella non è campione tanto quanto Lautaro sì ma parliamo di questione economica un campione va venduto stiamo dicendo da mezz'ora vabbè prendi Zellisky a zero in Inghilterra lo vendi bene e Dumfries Dumfries parte sicuro sicuro al mille per mille beh ma Dumfries da novembre del 2020 ha tante richieste ha tante richieste su Dumfries ci erano stati già dei movimenti nella scorsa estate certo lo ricordiamo comunque Bucanale è stato preso apposta per sostituire eventualmente e secondo me è un grande giocatore secondo me da quello che io l'unica partita che ho visto giocare all'Inter è entrato tranquillamente è l'unico che salta l'uomo ha fatto bisogna vederlo con quantità però aspetta che l'era su Bucanale 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 sì perché è statunitese canadese mi viene canadese volevo semplicemente dire che Marotta sa sicuramente quello che fa è riuscito a fare dei colpi spettacolari di parametri zero migliorando sempre la squadra quando in realtà i giocatori che venivano venduti tutti ritenevano che la squadra avrebbe comunque ci avrebbe rimesso in realtà è stato dimostrato il contrario sia da quando aveva venduto Akimi sia l'anno scorso con la perdita di Brozovic di Lukaku anche quindi secondo me gli interisti e l'Inter sono in ottime mani Marotta sarà sicuramente vincente Marotta da questo punto di vista è una garanzia assoluta è vero grande mi pare evidente ha preso frattesi e lo paga l'anno prossimo poi ci sono queste formule molto peculiari ma perché in Italia i soldi reali pochi è bravo a fare questo voglio dire individuare anche i giocatori insomma su Turam ripeto c'erano più squadre poi lui è stato bravo così come Cialanoglu insomma a capirne il malumore in maglia rossonera ecco 500 mila euro poi vedi si è fatto male Brozovic l'ha messo lì ha preso il porto di Brozo cambia ruolo c'è anche fortuna ragazzi c'è fortuna ma che fosse un buon giocatore si capiva poi deve avere l'allenatore che però percepisce le qualità di quel giocatore e cambia collocazione col